Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Oh ma che cazzo di storia è questa che non posso volare? Cioè le mie ali sono qui a fare cosa? I soprammobili? Eh, c'è lo stesso problema con i cannoni. Continuo a sparare acqua dalla bocca, Dio Cristo. Il coccodrillo come... Questa è benzina. No, no, io mi do fuoco se vuoi... Oh ma chi cazzo è lo scemo che fa l'albero di Natale ad ottobre, Dio bono? Cioè ma ti sembra normale che devo portarmi dietro mezza Africa sulla schiena? Cioè io non lo so, che creatori colera. Ah, no cazzo, scusate ho sbagliato immagino. Oh cucui, non è che magari sai dove cazzo si trova il circo che qua mi sono ritrovato a fare lo starter ma io voglio andare a tirare palloni, a fare le pirouette in mezzo all'acqua, in mezzo alla gente. Non so, sai com'è. La foresta di Sherwood me la ricordavo vagamente diversa. C'erano meno executor for Malola in effetti. La foresta di Sherwood me la ricordavo vagamente diversa, in mezzo all'acqua, in mezzo all'acqua. La foresta di Sherwood me la ricordavo vagamente diversa.